Il sindaco facente funzioni di Castellabate, Luisa Maiuri, denuncia attraverso una missiva alla presidenza della provincia di Salerno e al settore viabilità la mancanza di manutenzione lungo la via del mare. Si tratta di un ritardo inaccettabile, visto lo sforzo che i territori stanno facendo per far ripartire il turismo a seguito del freno dato dall'emergenza sanitaria, dice Maiuri. La SP267 è l'unica arteria che collega Castellabate e altri comuni costieri alla provincia ed è quindi indispensabile che con la stagione turistica già in corso ci si trovi con una strada oggi piena di buche ed invasa dalla vegetazione. La carreggiata è in grave dissesto e dunque pericolosa per chi la percorre. La richiesta di manutenzione urgente era già stata anticipata da altre richieste di interventi a cui l'ente provinciale non ha mai dato risposta. Ogni anno ci ritroviamo a dover richiedere con forza quello che dovrebbe essere una normale procedura di manutenzione, continua Luisa Maiuri. Una priorità per la sicurezza stradale e per la salvaguardia dei servizi ai cittadini e ai turisti che numerosi decidono di raggiungere le nostre coste. E poi conclude, ripartire significa anche prestare attenzione all'imprescindibile manutenzione e messa in sicurezza delle nostre strade.